Oggi parleremo degli egiziani, gli egizi. Il regno d'Egitto. Gli antichi egizi si svilupparono lungo la valle del Nilo. Il fiume Nilo è il più lungo fiume del mondo. Scorre per 6.600 chilometri e sfocia nel mar Mediterraneo con un ambio delta. Intorno al 5.000 avanti Cristo, lungo le rive del Nilo, sorsero diversi villaggi. Queste comunità unendosi diedero vita al Basso Egitto e all'Alto Egitto. Ogni regno era governato d'orre. Ci furono violenti scontri tra l'Alto Egitto e il Basso Egitto per la dominazione del territorio, fino a quando, intorno al 3.000 avanti Cristo, Menes, re del sud, unificò i due regni e divenne il primo faraone, dando vinta alla prima dinastia che avrebbe governato per 2.000 anni circa. Il Nilo. La ricchezza delle antiche Egitto dipendeva dal fiume Nilo, perché ogni anno in estate straripava, allagando i terreni attorno. Quando poi l'acqua si ritirava dal terreno, rimaneva il limo, una fanchiglia ricca di sostanze fertilizzanti. A novembre i contadini tracciavano dei solchi nei campi, con gli aratri tra i nati dei buoi. In seguito seminavano e rigavano le colture. In primavera si dedicavano al raccolto dei prodotti. Praticavano l'agricoltura, coltivavano grano, da cui ricavavano pane, orzo per la birra, piante di lino, dalle quali ottenevano filati per i tessuti. Erano diffusi gli alberi di fico e di melograno, palme da dattero e vidi. Si dedicavano anche all'allevamento, alla caccia e alla pesca. Gli artigiani realizzavano mattoni, costruivano imbarcazioni, mobili e oggetti per la vita di tutti i giorni. Diffuso era anche il commercio. In Egitto arrivavano cavalli, legno, pietre preziose, oro, rame e schiavi. Video realizzato per la didattica a distanza, materiale reperito su internet e su diversi libri. Maestra Giussi, arrivederci!